A due giorni esatti dall'evento del G7, il 22, 23 e 24 prossimi, taglio del nastro Stamani per il nuovo Corso Umberto e la rinnovata Piazza Sacro Cuore. La mattinata è stata lietata dall'esibizione di Stretango con le scuole di Tango di Pescara, Musiche di Andrea De Marinis. A distanza di un anno circa, dunque, dall'inizio dei lavori, sono arrivati al termine in Piazza Sacro Cuore e Corso Umberto, dove sono stati effettuati due interventi, uno di piantumazione di nuovi alberi e l'altro di riqualificazione. La soddisfazione del sindaco di Pescara, Carlo Masci. Con tutto questo verde, con tutto questo spazio, con una pavimentazione drenante che assorbe l'acqua e respinge il sole, 187 piante, 2000 arbusti. Oggi la riconsegniamo tutta l'area ai cittadini di Pescara, ai turisti, a coloro che verranno a passeggiare sul nostro corso, che ha tutta un'altra immagine rispetto al passato. Il termine è stato pienamente rispettato, perché il termine di riconsegna scadeva il 30 ottobre. L'intervento è stato un intervento di una complessità incredibile. Quindi io voglio ringraziare gli uffici lavori pubblici del Comune, che hanno fatto un lavoro strepitoso, le imprese che hanno operato su quello spazio e che hanno permesso anche di continuare a tenere aperto il corso, di continuare a tenere aperta Piazza Sacro Cuore nel momento in cui si effettuavano i lavori. Ringrazio anche i cittadini di Pescara per aver avuto la pazienza giusta, per aspettare certamente la fine dei lavori, per un intervento bellissimo che porterà a Pescara sicuramente una migliore qualità di vita. Continuiamo con gli interventi in città che cambiano il volto di Pescara e che la proiettano in una dimensione diversa, più alta internazionale. D'altra parte in questi giorni avremo le delegazioni dei sette paesi più industrializzati del mondo che passeggeranno sul nuovo Corso Umberto, sulla nuova Piazza Sacro Cuore, dove la FAO per conto dell'ONU ha montato una struttura dove si parlerà di sostenibilità ambientale. Credo che sia stata la scelta più giusta realizzare quella struttura per parlare di quegli argomenti nella nuova Piazza Sacro Cuore.